Tutto pronto per la festa in grande stile a Salerno, non solo allo stadio Arechi. Tutta la città si è colorata di granata, pronta ad accogliere nuovamente i protagonisti della squadra di Minichini dopo l'assaggio di due settimane fa. Stavolta è tutto organizzato, perché non c'è il fattore sorpresa. Balconi e strade sono state adornate da bandiere e striscioni. L'impianto calcistico, che ospiterà il match con la casertana sabato pomeriggio, è pronta a riempirsi come nuovo. Almeno 25.000 gli spettatori sugli spalti, curiosi di scoprire anche chi sarà la madrina dell'evento post partita. Si parla con insistenza dell'attrice Priscilla Salerno, ma non ci sono conferme ufficiali. Salernitana, che non vuole solo vincere per chiudere in bellezza, ma anche per correttezza nei confronti degli altri team che ancora sperano nei play-off, come la stessa casertana, ma anche Lecce ed altre. Insomma, sarà una partita vera, poi si apriranno le porte alla festa. A Pagani, invece, il presidente Trapani comincia a far di conto, da valutare spese e possibilità per il prossimo anno. E da ciò dipenderà anche il futuro del tecnico Sottil. Non stiamo a parlare di business plan, tanto in voga ultimamente grazie al Napoli e al suo trainer Benitez, ma comunque Trapani dovrà fare le sue valutazioni. È possibile che si scelga la strada dei giovani e in tal caso Sottil potrebbe non essere in linea con la dirigenza. Ma è tutto ancora in ballo, così come il destino del direttore generale Deboli, sempre voglioso di un'esperienza diversa dopo i dieci anni di Pagani. Sul fronte Nocerina le notizie sono sempre le stesse. Un gruppo imbreditoriale starebbe lavorando all'acquisizione di un titolo di Serie D. Si parla di quello dell'Agropoli, ma anche della Scafatese, se dovesse salvare il team gialloblu. La situazione è ancora molto incerta, quindi è difficile che ci sia concretezza dietro alle voci o ai passaggi più o meno ufficiali che stanno portando avanti alcuni professionisti di Nocera e non solo. Di certo è che chi vuol fare calcio nelle due Nocera non sembra intenzionato a farlo con il titolo attuale, cioè quello di eccellenza di proprietà dei Citarella. Titolo che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere utilizzato ancora per portare avanti soltanto il settore giovanile.